La località che realizza meno minuti del più baricentrico è Contrada della Pieve e Macerata. L'algoritmo della Regione ha individuato la location più baricentrica rispetto al territorio provinciale. L'annuncio del Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, il risultato ha preso come parametro principale è quello dei minuti necessari a raggiungere il luogo dai comuni del Maceratese e Contrada Pieve a Macerata appunto è risultata quella con il numero minore di minuti. Il riordino della sanità fatta seguendo le linee del decreto ministeriale 70 restituisce nella sanità per acuti luoghi di grande qualità. Il cittadino oggi è vero che vorrebbe in astratto l'ospedale sotto casa ma poi quando ha bisogno vuole una struttura di qualità. Per poterlo fare servono percorsi come questo. Soddisfatto il Presidente di Aria Vasta Carancini, elogiato da Ceriscioli e da molti suoi colleghi, per aver condotto la conferenza in un difficile percorso di coesione e democrazia. Sarei un idiota se pensassi che qualcuno, in particolare Macerata, oggi avesse vinto qualcosa. Macerata non ha vinto niente, credo che abbia vinto almeno in questo primo passaggio la buona politica, cioè la capacità di tutti i sindaci di qualunque appartenenza essi appunto rappresentino, di una risposta a quello che è oggettivamente un tema fondamentale, quello della sanità. Per Macerata Città comunque si aprono tanti nuovi scenari, un esempio quello dello sviluppo dei locali Asur di Santa Croce. Io credo per esempio che l'università da questo punto di vista possa praticare lì la loro forza di propulsione, di crescita e di evoluzione di una università importante. Deluso invece il Sindaco di Tolentino Pezzanesi. Sì, molta delusione perché tra l'altro temevo, come temevamo tutti, che fosse già stato deciso nel 2016 questa location del nuovo ospedale unico. Quando oggi c'è stata l'ufficializzazione credo che la cosa che dà più rammarico è questa finta trattativa che abbiamo fatto per dieci mesi ed oltre, sfibrandoci anche a livello personale perché con posizioni di forza e quant'altro perché ecco io non voglio dire nulla ma come avete visto la posizione del cosiddetto baricentrismo, quindi del chilometraggio che il Presidente regionale ha illustrato, metteva Tolentino di poco nelle immediate vicinanze della pieve. La scelta di Macerata è accompagnata dalla conferma degli ospedali di Camerino e San Severino e di un'eccellenza nell'emergenza nel nosocomio di Civitanova Marche. Tema caldo per tutti i sindaci le infrastrutture, soprattutto per il collegamento con la vallata del Potenza. Infine i tempi medio-lunghi che Ceriscioli cerca di accorciare sin da subito. Con carotaggi, gli accordi privati per evitare spropi e contenziosi che sono la bestia nera di lavori dell'Opera Pubblica in Italia la predisposizione del bando e la gara. Vogliamo arrivare in tempi molto rapidi a concretizzare questo accordo che il territorio ha saputo trovare.